ogni mattina per andare a lavorare devo passare per questa strada come la strada che costeggia a sinistra il mercato ortofrutticolo di pagani e ogni mattina trovo una signora che passeggia con il suo cane e per evitare di andare sotto un'auto di essere investita deve camminare o per meglio dire deve fare lo slalom sul marciapiede tra quello che potete vedere spazzatura di vario genere erbaci altissime escrementi di animali e quant'altro è quasi impossibile per camminare su questo marciapiede che fa parte del comune di pagani ma stranamente abbandonato è una strada abbandonata nessuno fa pulizia nemmeno il camion della nettezza urbana passa la mattina per ripulire addirittura un computer una ruota di un camion proprio appoggiata di piatto sul marciapiede che per passare bisogna o saltare può andare in mezzo alla strada ruote d'auto diciamo che c'è un po di tutto ma il comune assente